Saranno completati entro la prossima estate i 10 chilometri di ciclopista che attraversano il territorio del comune di Empoli. Nelle immagini vedete il sopralluogo effettuato dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, la sindaca Brenda Barnini e il vicesindaco Fabio Barzottini nel tratto appena terminato nella zona di Serravalle. Stiamo parlando di una pista ciclabile lunga circa 10 chilometri che andrà a collegare le frazioni di Tinaia fino a Marcignana. Stiamo parlando di un'opera di circa 1.200.000 euro che nella prossima estate vedrà l'apertura e quindi sarà possibile fruirla come cittadini e come ciclisti. La ciclovia dell'Arno sta avanzando perché entro il prossimo anno da qui a Pisa i lavori saranno praticamente completati lungo tutto il tratto. Stanno andando molto bene anche nella parte iniziale in Casentino, Arezzo e quindi è veramente una grande opportunità che questa infrastruttura dà alle comunità locali per poter essere utilizzata sia in bicicletta sia a piedi ma anche un grandissimo asset per quanto riguarda il cicloturismo. Negli ultimi anni il cicloturismo e in generale il cosiddetto turismo esponenziale ha registrato un incremento in Toscana del 41%.